Ciao a tutti e bentornati. Allora, visto il flop delle ultime live buasta, Chiara ripiega sui vlog. E proprio in uno degli ultimi vlog ha mostrato il disastroso arrivo delle poltroncine nuove che non hanno superato il test resistenza e quindi si beccano il feedback negativo e di conseguenza vengono rispedite al mittente. E resta in attesa di un eventuale rimborso. Ora pare sia arrivato in casa d'Alimberti un nuovo pezzo di arredo, il tavolo. Ci raccontano il tutto in questo esplosivo vlog. Dal titolo è arrivato il tavolo nuovo, più mini tour della sala. E beh, lo so, vi capisco benissimo, è difficile placare l'eccitazione, ma il video inizia con loro due che sono in giro. Che devono fare? Devono acquistare un avvitatore. Che si siano dati al sato maso? Beh, effettivamente loro avevano annunciato qualche cambiamento nel canale, ma non immaginavo così drastico. Comunque, pare che l'avvitatore gli serva per montare il tavolo che passeranno a ritirare da Leroy Merlin. E poi c'è un piccolo salto temporale, perché il video riparte da casa con loro che hanno già posizionato sul pavimento la scatola che contiene il tavolo. L'hanno aperta e ci si prepara alla monta del tavolo, dico. Ora, per facilitarsi l'operazione, il nostro mastro geppetto sta riponendo tutti i pezzi uno vicino all'altro. E mai me il lavoro si prospetta più complesso del previsto, ma il nostro mastro geppetto non si lascia intimidire e pezzo dopo pezzo conclude l'operazione. E ci mostra il lavoro ultimato. È un bel tavolo di forma rotonda e di colore bianco. Lei dice che è in stile vittoriano. A me non sembra, però è un tavolo che si può allungare di modo che quando avranno tanti ospiti a casa... Ah no! Vabbè, chiuso è bello uguale. Quindi finito e posizionato il tavolo, giusto il tempo di dare una sistematina in giro e poi ci mostra parte della sala. Quindi adesso massima attenzione, prendete carta e penna, prendete appunti perché andiamo con la descrizione della sala vittoriana. Allora abbiamo frontalmente una porta finestra, alla sua sinistra un timido tiragraffi per le gatte, poi c'è il tavolo rotondo appoggiato al muro e sulla destra della porta finestra una console di colore bianco con sopra il mondo. Ebbè, è essenziale. Questo è il primo aggettivo che mi ispira. Ah, dimenticavo di dire che sulla parete dove c'è appoggiato il tavolo ci sono delle scritte in inglese che tradotto sarebbe Vivi per mangiare o mangi per vivere? Beh, queste scritte ovviamente saranno rimosse perché loro sono a dieta. Oggi era partito ancora una volta a panoramica di questa parte di sala e poi ci rimostra il tavolo, quello nuovo, su cui Chiara ha posto un meraviglioso runner con un motivo autunnale fatto di zucca e foglie nei toni del rosso e dell'arancio. Etto, non ti riparte Davide col solito siparietto che a lui non piace? Fa come se praticamente gliene fregasse a qualcuno della sua opinione, ma sappiamo bene che non è così, ma lui insiste. Non è a caso lei lo interrompe più volte nel corso della sua performance, per mostrarci il segno sul muro del tavolo precedente o solo per raccontare che il muro va imbiancato. Finalmente, e con molta fatica, riesce ad inserirsi Davide che dice che a vederlo in foto, sto tavolo qui, sia lui che Luciana pensavano fosse molto più grosso. Questo giochetto lo fanno in tanti, ma comunque poi quello che è... E poi comunque loro erano molto preoccupati che questo tavolo andasse ad ingombrare troppo la sala vittoriana. Invece poi, visto dal vivo, era di dimensioni notevolmente ridotte rispetto a quello che avevano preventivato. Tanto che vanno ad ipotizzare i vari posti per starci comodi. Allora, lei dice, quattro comodi, sei insomma. Vabbè, io fossi in loro non mi farei di questi problemi, tanto... Ecco, ogni tentativo di esprimere opinioni da parte di Davide viene sistematicamente interrotto. Tanto che questa parte di video si interrompe proprio con lui che sta dicendo Io volevo dire, riguardo al tavolo, che... Boom, finito. Ora però, siccome questo vlog è stato caricato nel canale di coppia, era giusto che lui desse la sua opinione. E quindi il video continua proprio con lui che si impadronisce della cam e dà finalmente quello che è il suo parere su questo benedetto tavolo. Allora, per la serie l'esperto risponde. Allora, cosa dice lui? Dice che è un bel legno, è bello solido, la grandezza gli sembra giusta, il design è bello ed occupa poco spazio e anche se lui odia i tavoli rotondi in tutte le sue salse, deve dire che tutto sommato. Poi anche e soprattutto per il fatto che allungato cambia forma, da rotondo diventa ovale e ci stanno comode ben dieci persone, quindi praticamente quando organizzeranno delle scene tra amici dovranno districarsi nella scelta degli amici da invitare per quella sera. Cioè, almeno dieci per volta gli altri magari faranno fila. Quanto stanno questi dieci amici? Io dubito fortemente che lui, escludendo la sua famiglia, abbia mai avuto più di dieci amici nella sua vita. O meglio, qualcuno lo aveva pure prima di conoscere Chiara, ma con l'avvento di Chiara nella sua vita praticamente gli ha fatto tabula rasa. Non so, ma la loro storia mi ricorda molto quel film Misery non deve morire, del tipo che c'era quella psicopatica che aveva attratto a casa sua quello scrittore e poi l'aveva praticamente gambizzato, quello era fermo a letto, non poteva muoversi più di tanto e lei ne faceva quello che voleva di questa persona qui. Cioè, mi ricorda molto quella situazione, a parte il fatto del gambizzare, perché non siamo ancora arrivati a quei livelli, però per tutto il resto sì, ci siamo. C'è da dire che ultimamente sta ripartendo con le migliorie di casa, anche se è da oltre un anno che attendono la consegna della cucina nuova, progettata da lei stessa e pagata a sua detta. Ma ad oggi la cucina nuova ancora non si è vista, come pure la cucina nuova che dovevano comprare ai suoi cerini. Vi ricordate come gliel'aveva devastata quella cucina? E poi con la promessa che ne avrebbe presa una nuova per loro, poi invece se ne è tornata dalla madre e si è portata via pure il frigo. Oddio, non è che la cucina dei suoi cerini prima fosse nuova di zecca, ma comunque ci facevano il comodo loro. Vi ricordo che nella loro ex-camera a casa dei suoi cerini hanno ancora lasciato lì a deposito un mare di cianfrusaglie, tra cui tanti utensili comprati per quando loro andranno a vivere da soli, quando avranno una casa tutta loro. Beh, è proprio tutta una contraddizione se donna qui. Ad esempio, comprano bicchieri Toon e poi si attaccano a bere dalla bottiglia. Però se glielo fai notare, ti appellano come uno scappato di casa. E niente dunque, questo era il vlog del tavolo comprato, montato e posizionato. Poi, in merito alla faccenda moderatori, pare che Chiara, per non mettere in evidenza il fatto di aver eliminato dal gruppo moderatori del suo canale, Lorena, Dennis e altri, probabilmente, cosa ha fatto? Ha rimosso tutti i moderatori dal canale, pensando così che la faccenda passasse in sordina. Ma i laboriosi ether e troll prestano sempre massima attenzione e puntualmente le rinfacciano il fatto che le sue amicizie barra moderatori durano da Natale a Santo Stefano. Accusa che lei rigetta ogni volta, ma di fronte all'evidenza dei fatti, le chiacchiere stanno a zero. Bene, e queste sono le ultime dal fronte trio milanese che ci intrattengono con contenuti top e yeah. Oggi, come gli altri giorni, ci saranno le interessanti live di Davide con i titoli accattivanti e sempre nuovi, tipo Buona domenica, Buon pomeriggio, Buonasera e Buonanotte e magari vi faccio anche un piccolo spoiler di quello che sarà l'argomento principe di queste live. Allora, ultimamente fa un po' più freschino, anche se per le medie stagionali fa più caldo del solito. Va bene. Detto questo, io vi saluto, vi auguro buona domenica, buona continuazione di giornata e vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto. Ma nel frattempo, un bacio a tutti da Gossip. Grazie. 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 Grazie.